Lavoro rivolta a sindacale, al prosciuttificio di Colledara, gli operai sono tutti in mobilità. Traffico, l'assessore di Giovan Giacomo del Comune di Teramo conferma la rivoluzione dei sensi unici. Asle di Teramo, dopo le cause, accordo raggiunto sulla vestizione degli infermieri, esulta il Nursind. Comune di Teramo, che fine ha fatto il guado, sbraccia e interroga il suo sindaco e diserta il conclave. E per lo sport alla pallamano, la Globo Allianz riflette sullo stop le squadre maschili per una stagione al vertice. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Apriamo ancora una volta con il tentativo di recuperare i due ragazzi, i due giovani militari morti sul Gran Sasso che sono ancora nel punto in cui sono scivolati. Una bufera di neve, il forte evento, hanno bloccato le operazioni di recupero dei corpi di due giovani alpini, Giovanni De Giorgi, 26enne di Galatina, e Massimiliano Cassa, 29enne di Corato, che venerdì scorso sono scivolati in un canalone sul Gran Sasso per oltre 300 metri durante un'escursione a quota 2.400 metri. Dal lato di Campo Imperatore sono in attesa le squadre del Soccorso Alpino, della Forestale e della Guardia di Finanza, oltre agli alpini del nono reggimento. Dal lato dei Prati di Tivo, dal lato Teramano, c'è un'altra squadra del Soccorso Alpino. A causa del maltempo, è escluso l'intervento dell'elicottero del 118. Una squadra del Soccorso Alpino ha intanto trasportato dei materiali in prossimità della ferrata Brizio, situata tra il versante Aquilano e quello Teramano del Gran Sasso, per provare a percorrere la stessa quando le condizioni meteo saranno migliorate. Al momento però questo non è possibile, anche in considerazione della presenza di accumuli di neve, il conseguente rischio di valanghe. E adesso ci occupiamo delle difficoltà del lavoro. Le maestranze del prosciuttificio di Colledara non ci stanno e si ribellano alle iniziative dell'azienda, che in pochi mesi ha di fatto messo in mobilità tutti i dipendenti. Oggi, nell'incontro in provincia Teramo, si sono confrontati alla presenza del presidente di Sabatino. Sentiamo prima le ragioni dei dipendenti. Il servizio. Daniele San Massimo è uno dei lavoratori della Crudì Italia, il prosciuttificio di Colledara. e la situazione non è tranquilla, vero, per voi dipendenti? Tutt'altro? No, è tutt'altro che tranquilla. Allora, noi siamo molto, molto arrabbiati in quanto tutte le procedure che sono state effettuate in quell'azienda secondo noi sono sbagliate, secondo noi sono, diciamo, fuori legge. Quali procedure? Allora, l'azienda in pratica, vabbè, già da diversi anni magari era in difficoltà economiche. Quindi hanno pensato bene di fare un concordato preventivo. Fino adesso noi fondamentalmente non abbiamo mai saputo questo concordato preventivo per quali motivi erano. Prima era per chiusura aziendale, poi per ristrutturazione aziendale. Fatto sì che in pratica da settembre le persone sono state messe in cassa integrazione. Quante? Allora, eravamo 82 dipendenti. Da settembre, un po' alla volta, abbiamo fatto cassa integrazione ordinaria. Poi dal 7 gennaio siamo andati tutti in cassa integrazione straordinaria. Ci sono state meno commesse, meno lavoro? Ma le commesse c'erano. Io le dico, stavo in ufficio, gestivo il personale, gestivo i camion, quindi le commesse c'erano, il lavoro c'era. Però perché questa decisione dell'azienda? Guardi, ci hanno sempre detto che con la crisi in pratica mondiale, che i costi si erano alzati, in pratica il prodotto doveva essere venduto a minor costo, così, comunque... Ed ora si parla ancora di mobilità, vero? Sì, adesso si parla di mobilità, si parla. Noi siamo andati in cassa integrazione straordinaria, tutti dipendenti, dal 7 gennaio. Intorno al 20 gennaio in pratica è entrata un'azienda che ha affittato lo stabilimento e i macchinari. Sono rimasti due dipendenti della Crude d'Italia, adesso uno solo in ufficio. E non è facile coniugare le richieste dei dipendenti con la volontà dei titolari dell'azienda. È quello che ha detto il Presidente della provincia Renzo di Sabatino a margine dell'incontro di questa mattina nella sede di Via Mili. Sentiamo. Presidente di Sabatino, la situazione, la vicenda del progettificio non è di facile soluzione, è così? Sì, è una vicenda molto delicata. La Crude d'Italia ha deciso di chiudere l'attività produttiva qui nel Terramano, c'è una nuova azienda che sta subentrando, però ci sono delle situazioni che vanno sicuramente chiarite e smussate. Le organizzazioni sindacali ovviamente non accettano il tipo di procedura che è stata adottata. Adesso vediamo che cosa uscirà dal tavolo di raffreddamento qui davanti alla provincia. Lei ha già sentito però i sindacati, vero? Sì, ho cercato intanto di capire qual è la loro posizione, quella dell'azienda più o meno mi è nota. Cosa chiedono? Se possiamo riassumere brevemente, sindacati e azienda? Ma i sindacati contestano il fatto che la procedura adottata in realtà maschere un trasferimento aziendale. La società ovviamente contesta questo e quindi adesso avviato questa procedura di licenziamento collettivo vediamo se su questo riusciamo a trovare un'intesa. Ovviamente seguiremo ancora questa vertenza. Sì, la chiusura per 30 giorni è un provvedimento pesante per officine indipendenti. Ha detto l'assessore comunale di Teramo Marco Tancredi ma bisogna tenersi alle regole sia per quanto riguarda i decibel quando ci sono i concerti che per ciò che attiene al decoro esterno al locale. L'intervista. Ma noi assolutamente siamo d'accordo e appoggiamo la loro attività culturale perché è un'attività culturale che è di rispetto tantissimi amici che suonano mi hanno telefonato perché allora è dispiaciuto che sia stato chiuso il club perché avevano oltretutto delle serate programmate però siccome la critica che ci è arrivata è che officine indipendenti fa cultura a Teramo dobbiamo ricordare che fare cultura non significa comunque avere libertà poi di fare tutto il resto perché se noi siamo arrivati è un'ordinanza così dura perché in effetti è un'ordinanza di chiusura di 30 giorni è un'ordinanza dura e perché abbiamo tutta una serie di provvedimenti di esposti di verifiche della polizia giudiziaria dell'autorità giudiziaria di verifiche dell'arta sulle rilevazioni fonometriche abbiamo un precedente di chiusura già di officine indipendenti nell'altra sede dove era e quindi tutta una serie di praticamente precedenti che ci hanno portato a non poter scegliere su quella che è il provvedimento che abbiamo fatto io vorrei ricordare che ieri ne parlavamo con il mio funzionario con Gaudio Falasca la salute è costituzionalmente garantita la salute pubblica e la salute pubblica di chi abita in quella zona e non riesce a dormire perché in diversi giorni della settimana ricordiamo non solo nel weekend gli avventori di officine indipendenti si trattengono fino alle 3 alle 4 di notte all'esterno dei locali giocano a pallone fanno rumore con i cassonetti questo probabilmente non dipende come dire da chi gestisce officine indipendenti se poi si fermano fuori beh lo sforamento delle rilevazioni fonometriche sì sarà un'ordinanza sindacale in accordo anche con i gestori cioè se loro hanno dei rilevi da farci dei suggerimenti però voglio dire quelle che sono le norme da rispettare non è che abbiamo grosse possibilità di deroga e restiamo a Teramo sensi unici da gennaio e rivoluzione a Teramo si cambia in circonvallazione Spalato corso Porta Romana e Viale Cavour il comune di Teramo va avanti nel nuovo disegno della viabilità e l'assessore Giorgio Di Giovangiacomo motiva le scelte che l'amministrazione condividerà con la maggioranza e con i residenti il servizio con l'inizio del nuovo anno l'assessore Di Giovangiacomo darà ufficialmente il via all'introduzione dei nuovi sensi unici che rivoluzioneranno la zona di circonvallazione Spalato e Corso Porta Romana e di via del Castello prima del via libera questi passaggi saranno condivisi con la maggioranza durante il conclave atteso nel weekend ma anche con le associazioni cittadine e i residenti coinvolti in questa rivoluzione della viabilità che prenderà forma nel nuovo piano urbano del traffico oltre al già noto senso unico in circonvallazione Spalato in direzione Porta Madonna la nuova ipotesi prevede anche il senso unico in via San Giuseppe la via vicina alla curva est del vecchio stadio andrà a salire in direzione di via Vincenzo Irelli che da quel punto si congiungerà nel nuovo senso di circolazione di Corso Porta Romana che da largo pro console procederà in direzione dello svincolo dell'8-0 di via Conte-Contin questo permetterà di raggiungere più agevolmente lo svincolo dell'8-0 anche ai residenti della zona di via Savini e Porta Madonna non ci saranno ripensamenti invece anche per l'introduzione del senso unico in via Lecavur alla fine di via del Castello fino a via 4 Novembre qui alcuni esponenti del comitato di quartiere avevano chiesto un passo indietro all'assessore motivato dalla tesi che questa soluzione avrebbe pesantito ulteriormente il traffico in via Lebovio e via Lecrucioli un falso problema ha dichiarato l'assessore di Giovanni Giacomo poiché lo studio rimesso sul traffico dello studio Cera a cui il comune ha incaricato il progetto dimostra che con l'apertura dell'8-0 specie in via Lecrucioli la viabilità si è decongestionata del 35% la sollecitazione del senso unico è stata decisa anche in seguito a una raccolta di oltre 300 firme dei residenti della zona Castello che ci chiedono di garantire sicurezza al passaggio pedonale e più parcheggi per i residenti con l'attuale doppio senso di circolazione questo è impossibile oltre che rischioso ancora a Teramo il consigliere comunale del gruppo misto di Teramo il consiglio comunale Mimmo Sbraccia continua ad essere spina nel fianco di quella che è comunque la sua maggioranza dalla chiedere spiegazione al sindaco sui ritardi per la conclusione dei lavori al guado di Carapollo alle critiche per il prossimo conclave politico della maggioranza di centrodestra a Gualdo Tadino penso proprio che non ci andrò ci ha detto sentiamo Mimmo Sbraccia interviene sul guado di Carapollo perché ancora non si riesce a sbloccare la situazione è così? Sì infatti voglio riferire a nome di tutti i cittadini che questo guado doveva ripartire la fine di verso settembre il sindaco aveva detto io non so di chi è la colpa però il fatto sta che questo questo guado non riparte dal guado a gualdo gualdotadino è vero che lei è tra quelli scontenti che non andranno a gualdotadino? Guarda io questo modo di essere scontento questo modo di essere di non aver fatto l'assessore ti toccava non ti toccava io sul fatto del ruolo politico io ho detto quello che se mi tocca e quello che mi tocca se me lo sono meritato in campagna elettorale me lo danno altrimenti non fa niente ma non è questo il fatto che non aver fatto l'assessore io adesso ci faccio tutte queste contestazioni a gualdotadino ci andrà? sicuramente penso di no non vado a gualdotadino ecco perché chiaramente a parte il fatto di questa scelta a gualdotadino quando a noi invidiano tante di queste località che abbiamo qui nella nostra provincia di andare a gualdotadino non so il motivo perché poi chi la scelta non lo so quindi con questo passo lei è ufficialmente fuori dalla maggioranza? no non dico che è fuori dalla maggioranza io mi sono tirato un po' da parte perché il fatto di queste riunioni queste promesse che il sindaco ha fatto nelle giunte itineranti e poi alla fine non le ha mantenute queste risposte che doveva dare quindi non è solo la questione della località ma proprio una distanza ormai politica non è questa la distanza non è neanche il fatto per confrontarsi perché so che sono sempre le solite chiacchie però i chi deciderano sono sempre loro quello che devono fare quindi il Movimento 5 Stelle di Teramo sollecita una partecipazione più attiva dei cittadini alla cosa pubblica attraverso il progetto Parliamone in Comune tutti i giovedì i cittadini potranno recarsi direttamente in municipio per segnalare problematiche e proporre idee e soluzioni al consigliere comunale dei 5 Stelle Fabio Berardini direttamente nella saletta riservata alle opposizioni tutte le segnalazioni ricevute saranno discusse negli incontri con gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Teramo e poi saranno portate in consiglio comunale sotto forma di interrogazioni o di mozioni il consigliere d'opposizione chiede anche la modifica del regolamento comunale per dare massima diffusione dei lavori del consiglio comunale così come previsto dallo statuto esprime soddisfazione il sindacato degli infermieri in Ursind di Teramo in merito alla questione dei tempi di vestizione e svestizione degli infermieri il Ursind chiedeva che fossero ricompresi negli orari lavorativi e dunque retribuiti in un incontro tra sindacati ASL si è arrivata ad un accordo per evitare nuove cause la ASL riconoscerà per il periodo pregresso di 5 anni dalla data della domanda un periodo di massimo 15 minuti all'inizio e alla fine di ciascun turno di lavoro mentre a far data dal 1 gennaio 2015 la nuova organizzazione del lavoro prevederà un tempo di 10 minuti all'inizio e alla fine di ciascun turno di lavoro il computo degli arretrati non sarà forfettario ma commisurato all'esatto tempo di vestizione e svestizione certificato dai cartellini marcatempo dei singoli infermieri per raggiungere l'accordo sono state determinanti le sentenze contro l'ASL di Teramo fa sapere il NURS infatti il tribunale del lavoro ha accolto finora 60 su 110 ricorsi e così l'ASL già nella busta paga di novembre con una reintegrazione monetaria che a seconda dei casi varierà dai 1.100 ai 4.500 euro circa a luglio l'ASL è stata condannata a rimborsare le somme comprensive di interessi legali a circa 27 infermieri a titolo di lavoro straordinario per il periodo che va da gennaio 2008 fino a dicembre 2012 a metà ottobre la medesima condanna in favore di altri 33 infermieri è quello che fa sapere il NURSING in una nota firmata dal segretario provinciale Giuseppe De Zolt l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise caporale organizza a Teramo la giornata di studio sulla Blue Tong la malattia della lingua blu in qualità di centro di referenza nazionale per lo studio l'accertamento delle malattie esotiche degli animali e dunque con compiti di studio sui rischi di introduzione o diffusione della malattia sul territorio nazionale l'esecuzione e la conferma della diagnosi della malattia e l'elaborazione dei piani di sorveglianza nazionali la giornata di studio in programma giovedì 20 novembre giovedì prossimo nella sala convegni a Colle Atterrato all'obiettivo di fornire un aggiornamento tecnico scientifico sulla situazione epidemiologica della Blue Tong in Italia presentare le attività specifiche del CESME e i risultati del circuito interlaboratorio l'evento offrirà l'occasione per confrontarsi sull'attività diagnostica dei laboratori e condividere informazioni inerenti alle attività di ricerca la giornata di studio del 20 novembre segue di due settimane la quarta conferenza internazionale sulla Blue Tong organizzata anch'essa dallo zoo profilattico per conto del Ministero della Salute che si è tenuta a Roma dal 5 al 7 novembre scorsi e che è stata inserita per la sua importanza nel programma ufficiale del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea studenti, laureati e laureandi della Facoltà di Scienze e della Comunicazione dell'Università di Teramo parteciperanno al Career Day promossa con Italia Lavoro Federazione e Relazioni Pubbliche Ordine dei giornalisti e Associazione per la Direzione del Personale si tratta di una originale occasione tra aziende, studenti e giovani laureati e laureandi con l'obiettivo di ridurre i tempi di inserimento lavorativo l'incontro si terrà nella sala delle lauree di giurisprudenza e i partecipanti laureati nel corso di studi potranno consegnare il loro curriculum a una serie di maggiori aziende il Career Day è proposto nell'ambito di un nuovo programma di placement che mira ad implementare le opportunità di incontro tra studenti e imprese a fornire iniziative di orientamento professionale a studenti e laureati ha spiegato Cristian Corsi una giornata ricca di appuntamenti che permetterà ai nostri studenti ha detto ancora Corsi laureandi e laureati di entrare in contatto con realtà professionali a rilevanza nazionale e internazionale la Coppa Interamnia fa appello ai cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni e a chiunque voglia prestare la propria opera di collaborazione per arricchire lo storico torneo di pallamano di nuova linfa propositiva e di più forze in campo e per questo che il patron Pierluigi Montauti lancia una sorta di vera e propria campagna di adesione sarà offerta nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 21 novembre alle 18 nella sala Caraciotti di Via Torre Bruciata sentiamo una chiamata raccolta di tutti i grandi appassionati di chi ha interesse per la Coppa Interamnia in sostanza è questo vero Gigi Montauti sì in un momento particolare direi anche abbastanza difficile noi abbiamo fatto un po' un esame di coscienza ci siamo resi conto che se la Coppa deve continuare il suo cammino lo deve continuare nel migliore dei modi per cui questa iniziativa è una specie di gesto d'orgoglio se vogliamo di disperazione da un certo punto di vista e l'intento è quello di rivedere un po' tutto l'apparato organizzativo chiamare tutti a collaborare con noi chiunque vuole può venire e vogliamo fare anche in collaborazione con il CONI e l'Università dei corsi di formazione soprattutto per i giovani volontari che vorranno venire vogliamo un po' rivitalizzare la Coppa Interammia nei suoi aspetti organizzativi anche alla luce di critiche e indicazioni che ci sono venute l'anno scorso a conclusione della 42esima edizione facciamo un esempio su cosa intervenire per migliorarla se si può migliorare la Coppa beh la Coppa va rivista perché negli anni ha perso lo smalto dei tempi migliori ci siamo un pochino tutti un po' rilassati se vogliamo tutti intendo un po' la città nella sua globalità e quindi va rivista e va rivista appunto in tutti i suoi aspetti e va curata meglio considerando anche che squadre da tutto il mondo seguitano a dirci di voler venire qui a Teramo quando ci sarà questo primo incontro? ci sarà venerdì 21 novembre alle ore 18 nella sala Caraciotti in via Torre Bruciata e molti non sanno dov'è via questa sala è la sala dell'esquartiere di Sant'Anna che si trova nella viuzza nella via che porta poi a Piazza Sant'Anna venendo dal comune verso Piazza Sant'Anna Anche a Teramo è stata celebrata la giornata mondiale del diabete organizzata dall'Associazione Interamnia che raggruppa volontari di assistenza ai diabetici del comprensorio di Teramo presieduta da Berardo Vallarola grazie all'apporto professionale dei medici del gruppo di lavoro dell'unità operativa di diabetologia dell'asile di Teramo tantissimi cittadini hanno ricevuto informazioni sul diabete e consigli per un miglior controllo possibile delle loro condizioni ai fini della malattia il modulo compilato dai medici per ciascun cittadino conferma che l'età l'obesità la sedentarietà e l'eredetarietà sono tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo della malattia diabetica quasi la metà delle persone esaminate nel corso della giornata ha presentato un peso corporeo eccessivo condizione che costituisce un serio fattore di rischio i giovani democratici della provincia di Teramo hanno deciso di aderire con entusiasmo all'iniziativa letture d'evasione promossa dal responsabile cultura del PD Abruzzo Loris Di Giovanni il progetto consiste nel raccogliere dizionari e libri in particolare volumi in lingua da donare alle biblioteche delle case circondariali abruzzesi così da provare a migliorare le condizioni degli istituti detentivi regionali e fornire ulteriori strumenti per aiutare i detenuti nel loro percorso di rieducazione l'iniziativa andrà avanti almeno fino al prossimo 23 novembre è possibile partecipare o portando i volumi al banchetto che verrà organizzato domenica in piazza Cavour a Martinsicuro oppure contattando i vari responsabili dei giovani democratici è una inaugurazione con voci tutte al femminile quella organizzata dal centro di cultura delle donne Anna Arendt per la mostra di Lea Contestabile dal titolo Basta domani al museo archeologico di Via Delfico a Teramo alle 17 la curatrice Guendalina di Sabatino in collaborazione con il comune di Teramo aprirà l'installazione sul filo conduttore della battaglia per eliminare la violenza sulle donne contro la barbarie del femminicidio all'inaugurazione interverranno anche la poetessa Anna Maria Giancarli la direttrice del polo museale di Teramo Paolo di Felice l'assessore comunale della cultura del comune di Teramo Francesca Lucantoni il vice presidente della provincia Barbara Ferretti e Anna Di Silvestre del centro Arendt e adesso è arrivato il momento della rubrica curata da Giancarlo Falconi carta canta vediamo tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra a destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra a 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 sinistra basta 22esima puntata di carta canta e come sempre stiamo attenti al sociale già abbiamo bollette abbiamo lettere aperte abbiamo tantissimi racconti di persone che sono state iscritte nelle famose black list una storia iniziata verso l'ottobre del 2012 quando nella decima commissione fu presentata fu presentato un disegno di legge le black list esistono già e sono entrati a farne parte di diversi terramani ci scrive un signore che chiameremo Roberto dopo aver pagato un arretrato a una società che fornisce energia elettrica e gas nello stesso giorno ha zerato il debito richiedevo per il tramite di un conoscente il ripristino della fornitura di gas codesto ufficio ha negato l'allaccio adducendo come motivazione che il sottoscritto è scritto nella lista nera ci ho premesso faccio presente di essere totalmente inabile e in quel periodo come c'è scritto attraverso anche i certificati medici questo cittadino terramano era ricoverato in un ospedale poi era ricoverato da un parente e ha fatto richiesta ovviamente di accompagnamento e tutto e ha avuto dei difficoltà enormi per trovare un'altra società di energia elettrica e di gas perché non aveva l'autorizzazione di passare da una parte all'altra e perché la società che era iscritto l'aveva purtroppo segnalato nella lista dei cattivi pagatori le black list come Roberto c'è anche Simonetta c'è anche Nicoletta c'è anche Susanna le bollette sono sempre le stesse si alternano e abbiamo cercato di parlare anche con la società di riferimento e ci hanno detto che per loro è un modo per attingere una banca data immensa ci sono milioni di persone iscritte abbiamo tentato un contatto con le varie società di consumatori e ci hanno detto che provvederanno a fare un tavolo tecnico a Teramo questa è una storia importante quest'uomo si è salvato è riuscito a trovare una società di energia grazie all'interesse di un intero comitato di quartiere o forse di un ristretto senso di famiglia ecco è la famiglia che ha risolto tutto c'era Germania Godrecci ex assessore associale del comune di Teramo e altre persone che si sono unite hanno pagato questa bolletta di circa 800 euro c'è stato anche l'interesse dell'assessore al comune al comune al sociale Valeria Valeria Misticoni che ha cercato di garantire personalmente però le black list sembrano inamovibili ricordo due personaggi della chiesa cattolica Dominani e Don Gallo erano completamente diversi però una cosa in comune erano attenti agli oppressi erano contro gli oppressori erano attenti ai dileggiati erano contro i privilegiati hanno scelto gli stranieri ecco noi saremo sempre alla difesa delle persone iscritte alla black list carta canta previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici sereno sulle aree orientali nevicati al di sopra dei 2000 metri inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi sereno sui settori adriatici temperature stazionarie massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 18 e 21 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati sud occidentali mare poco mosso in provincia di Teramo al pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle aree appenniniche sereno sulle aree costiere inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale sereno sulle aree adriatiche quota neve sui 2000 metri temperature stazionarie massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 17 e 20 gradi sulle coste venti deboli meridionali mare quasi calmo poco mosso apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Lega Pro ieri pomeriggio il Teramo è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato quello in programma in casa del Tutto Cuoio tra i biancorossi ha lavorato a parte Luca Lulli che ha le prese con un problema alla schiena si è aggregato regolarmente al gruppo Gianluca Lapadula che sta smaltendo il fastidio al tendine del ginocchio e le disegnazioni arbitrali per le partite in programma nel prossimo weekend in Lega Pro segnatamente per le gare delle due formazioni abruzzese per il Teramo e l'Aquila Tutto Cuoio-Teramo sarà diretta da Luigi Pillitteri di Palermo mentre l'Aquila a Savona sarà diretta da Matteo Proietti un altro cambio di panchina nel girone B di Lega Pro Unica nella tarda serata di ieri la lucchese ha infatti esonerato Guido Pagliuca all'allenatore è stata fatale la sconfitta in rimonta subita domenica scorsa nel derby contro la Pistoiese al posto di Pagliuca la società rossonera ha preso Giuseppe Nanu Galderisi indimenticato ex attaccante di Juventus e Verona Ancora il calcio la promozione nel campionato di promozione non è stata una giornata favorevole per le squadre di vetta nel girone A il Castellalto sconfitto a Fontanelle di Atri ha visto ridursi il suo vantaggio su Morro d'Oro e Cerchio nel girone B invece il passo cordone ha pareggiato contro la Valle del Foro ed è stato scavalcato dalla Val di Sangro il servizio nel campionato di promozione l'undicesima giornata che si è giocata domenica scorsa è stata fatale alle capoliste nel girone A il Castellalto ha rimediato la seconda sconfitta stagionale gli uomini di Quattraccioni hanno perso a Fontanelle 2-1 vittoria maturata in rimonta all'iniziale vantaggio del Castellalto siglato da Chiarastella ha risposto Sorricchio con due reti entrambe realizzate su calcio di rigore subito dietro non si sono fatte pregare Morrodoro e Cerchio che vincendo i rispettivi impegni sono riusciti ad accorciare il loro distacco dalla vetta i morresi hanno espugnato il campo di Mociano 2-1 vittoria anche questa maturata in rimonta grazie alle reti di Scrivani e Daniele Pellanera il Cerchio invece ha superato con un po' di sofferenza il Ponte Romano adesso gli Aquilani si trovano sul gradino più basso del foglio a meno uno dal secondo posto e a meno due dal primato tra le big ha rallentato la sua corsa il Santomero 2-2 con il Foggio Barisciano mentre nelle zone basse non è cambiato praticamente nulla Real Carsoi Balsorano e Tortoreto hanno perso i loro impegni e sono rimaste negli ultimi tre posti della classifica nel girone B è stata una domenica amara anche per il passo Cordone che ha pareggiato in casa contro la Valle del Foro 1-1 con gol di Buonvivere e autogol di Mucci i loro tesi sono stati sorpassati in vetta dalla Val di Sangro e agganciati al secondo posto dal Castello 2000 Castello 2000 che ha piegato il Silvi conquistando il terzo successo e l'ottavo risultato utile di fila la corsa al primo posto comunque è una vera ammucchiata con 5 squadre racchiuse in appena 3 punti in coda invece ha rallentato lo Scafa mentre hanno perso Treville e Lauretum per effetto di questi risultati non ci sono stati stravolgimenti nella corsa per evitare la retrocessione diretta in promozione e per chiudere la palla a mano in Serie 1 femminile è andata a male alla Globo Allianz Teramo che nello scontro diretto di Conversano è stata sconfitta nettamente 38 a 29 le Biancorossi hanno cosiddetto addio al primo posto in classifica turno di riposo in Serie B maschile le squadre terramane torneranno in campo nel prossimo weekend quando comincerà anche il campionato di Serie B femminile ma vediamo il servizio in casa Globo Allianz Teramo il girone di ritorno è iniziato nel peggiore dei modi nell'ultimo turno le Biancorossi infatti sono state sconfitte a Conversano il Bingbatch che metteva di fronte le prime della classe è andato quindi alle Pugliesi che dopo aver dominato dal primo all'ultimo minuto si sono imposte per 38 a 29 è stato un Teramo brutto forse il più brutto della stagione con la formazione di Settimio Massotti che è mancata soprattutto nella fase difensiva la Globo Allianz conserva comunque la seconda piazza ma vede avvicinarsi Salerno ad un punto di distanza e nel prossimo turno al Palas San Nicolò arriverà la Riosso Ferrara riduce da 5 vittorie consecutive domenica di riposo invece in Serie B maschile per le due squadre terramane che partecipano al campionato è stata l'occasione giusta per tracciare un bilancio di questo avvio di stagione su Sponda Lions parla Marcello Fonti il bilancio è positivo fino ad adesso ma noi non guardiamo a bilancio perché è una società giovane piena di giovani noi guardiamo alla crescita dei ragazzi stiamo facendo bene in Serie B e poi abbiamo pure una buona andeventi con questi ragazzi faremo pure un andeventi il più grande il più esperto è Federico Marano di questo gruppo quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo adesso Matteo Di Marcello del Team Teramo diciamo che sicuramente non è stato dei migliori il nostro inizio contro Chiaravalle che comunque è una delle squadre più forti del nostro girone però diciamo che dopo quell'inizio le successive tre partite sono andate molto bene siamo soddisfatti perché comunque stiamo iniziando a capire le nostre potenzialità quali sono in campo e dove possiamo arrivare bilancio simile quindi per le due terramane ma obiettivi decisamente contrapposti la Lions La mia squadra non ha nessun obiettivo ha solo tanta voglia di lavorare è più va avanti e meglio è Ora il Team Teramo dove può arrivare appunto questo Team Teramo? Sicuramente per lottare fino in fondo per la promozione sappiamo che ci sono altre squadre come Chieti come Chiaravalle come Lions Teramo che sono squadre molto forti con cui dovremo lottare per poter conquistare la promozione e sabato si torna in campo il Team Teramo va in trasferta a Monteprandone la Lions ospita il Guardia Grele in campo per la prima volta in stagione anche la squadra femminile del Team Teramo che sarà in astri di partenza del campionato di Serie B le Biancorosse allenate da Serafino Labbrecciosa esordiranno contro il Flavioni Civitavecchia Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale l'appuntamento si rinnoverà questa sera alle 19.15 sempre in diretta con la seconda edizione del nostro Tg ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci Grazie a tutti